Ben trovati nell'angolo dello sport. Dopo la prima prova fatta il 12 di aprile, adesso il 19, d'accordo con la Lega sia di A sia di B, saranno dati in omaggio dei libri per invogliare alla lettura. È un modo di accostare adesso il calcio alla cultura, visto che c'è una penuria di lettori e soprattutto c'è necessità che la gente cresca. Parliamo di calcio giocato, è rientrato in gruppo Lazzari, quindi può dare un'altra alternativa a Marco Baroni che deve cercare in tutti i modi adesso di presentare sabato contro il Modano una formazione competitiva considerando che Salamon e Melchiorri sono stati squalificati. Salamon può essere sostituito da Zubaric o da Fornasie che dir si voglia, sono loro che faranno la coppia centrale e metiorri ci sono i vari pettinari, pettinari, pasquati, insomma qualcosa deve inventarsi Marco Baroni anche perché Sanzovini non è in grado, a meno che non ci sia un recupero miracoloso, insomma al momento in cui vi parlo il Sanzovini non è né abile né arruolato. Come dovrebbe giocare allora questo Pescara? Diciamo Fiorillo in porta, vabbè perché oramai è un punto fermo, la linea di difesa Zampano, Zubaric, Fornasie e Rossi e poi c'è tutto un discorso da fare a centrocampo perché ha detto Marco Baroni che farà dei cambiamenti, cambiamenti, adesso sta giocando con il 4-4-2 quindi potrebbe essere un 4-3-3 o potrebbe essere un 4-3-2-1 o potrebbe essere un 4-4-1-1, insomma io credo così al lume di naso che al momento attuale il Pescara debba rinforzare il centrocampo con dei centrocampisti che hanno una proiezione offensiva e quindi vediamo un po' Politano a destra, al centro potrebbero essere Selasi Brugman, poi l'altro esterno potrebbe essere Caprari, poi in avanti Memusciai oppure Bjarnason, Bjarnason e poi Pettinari, quindi siamo obbligati, insomma in definitiva ci siamo venuti a trovare con queste squalifiche, ma non tanto le squalifiche dei due ragazzi Salamon e Mettione, ma quanto l'infortunio a Sanzovini sta creando qualche infortunio, l'inabilità diciamo temporanea di Sanzovini potrebbe creare qualche problema. Spera il Pescara di poter risolvere con il dodicesimo uomo in campo, come è stato favoleggiato sempre il pubblico, il dodicesimo uomo in campo, quindi operazione simpatia, operazione amicizia, chiamatela come volete, posta in essere, biglietti a un euro sia nelle curve che ai distinti, quindi lo stadio dovrebbe essere pieno. Capace quindi di dare la spinta emotiva necessaria ai biancazzurri per perturbare una moda che quantunque si voglia favorire nelle valutazioni, non è quella squadra che dovrebbe farci mettere davvero paura, però con questo Pescara puoi dire tutto il contrario di tutto perché puoi essere sbugiardato tecnicamente nel modo più assoluto perché ti va a vincere a Carpi, ti perde in casa con il Brescia, quindi è una carta coperta, bisogna, come si diceva, in dialetto truzzichiare, te lo devi girare un po' alla volta sperando che sia la carta buona, che sia il jolly che faccia vincere questa benedetta partita, approfittando poi dello scontro tra Bologna e la Spezia che potrebbe ridarci il posto al momento attuale nei play-off. È tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso come sempre, un grazie anche al regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.